Lo scalo merci accanto alla stazione ferroviaria di Prato è diventato un dormitorio presbandati e senza tetto. Questa mattina, alle 6 circa, durante un controllo mirato della questura scattato su segnalazione, sono stati identificati ben 20 stranieri, soprattutto di nazionalità afghana e pakistana. Dormivano in giacigli di fortuna, anche sopra i pancali, allestiti all'esterno delle dite di logistica e distribuzione merci che si trovano nell'area dello scalo ferroviario. 18 sono risultati in regola con il titolo di soggiorno rilasciato da altre province. Due, invece, clandestini, sono stati portati in questura e messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per più approfonditi accertamenti. Nello stesso contesto, un cittadino marocchino residente a Torino e pregiudicato è stato munito di foglio di via obbligatorio da Prato in quanto risultante delinquere sul territorio. Il servizio, che ha visto la partecipazione anche di ASL, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dei Vigili del Fuoco, è proseguito con un controllo all'interno di due ditte gestite da cinesi presenti nell'area. I due operai trovati a lavoro, cinesi, sono risultati in regola col permesso di soggiorno, ma sono in corso accertamenti da parte dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro sulla loro posizione lavorativa e sulle condizioni di salute e sicurezza all'interno del capannone.